Signori Ave Cesare, tante belle cose e che il gioco non ci mandi a quel paese Il nostro Namecciano di Fidulo Grazie Jack, ma più in alto, guarda uno pulla per vedere le animazioni nuove Che non troverò E' vero che il Goh non para fa il XO Tu madre Poi che è brutto mettere queste animazioni Si sente? Oh, a parte piccolo Piccolo No, Bisanzi è la stessa cosa Era per Alcuni messi Oddio! 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 Ma mi muovi Si cose se per merda Se per merda se per merda Si Ecco perché spendono soldi su dohkan Abiliti due alla stessa ulti credo che secondo me mi come di sistema il gioco troppo scuro Oddio scurare da una parte sfigata un'altra compensiamo un po Non cadena troppo di dohkan zi ma me dohkan globa mi sta dando solo grossi soddisfazioni piccolatec la prima copia alla prima multi piccolatec alla prima multi di oggi Si peppo una torta sottomarca però se può comprare No dohkan ultimamente a me sul globa da solo grossi soddisfazioni se vi siete persi il recap del 2020 lo trovate su youtube Dov'è un altro giro un altro piccolo no no Ah tiriamoci questa seconda samba però secondo me qua non c'è sta niente Che poi l'animazione è stranissima è uscito qua c'è solo krillin Oddio solo krillin Oddio Prima ci stava solo gothen Capo Capo ha detto cocaina E noi sappiamo cosa vuol dire cocaina Dohkan mi fa il regalo di natale di natale si si Do settimane fa No adesso krillin cross non si aprirà più per un intero mese Ability o tre o full Vabbè Va bene va bene capo però io so che il gioco può regalarmi qualche altra cosa Le mazioni dove esce gamma 1 gamma 2 piccolo può uscire pure gone beast dopo più Lo so poli non l'ho mai vista però Mi piacerebbe però trovarla Per il content per il content Gioco lo so che ci può regalare ancora grosse emozioni in questa multi Ma cosa è sta roba Una signora multi Anche perchè nessuno dei tre era full Cioè nessuno dei due Chiudi e stacca probabilmente domani non ci arrivo io Saluto al Ratzinger che chissà la sua cantina quando era piena Un altro krillin oddio Il krillin degli dei Quanti anni avevi Io sempre uno ne odiano Ma perchè ci sta un doppio applauso Ma non problemi Oh no di nuovo la cocaina Ha detto di nuovo cocaina Ma non vorrei dire però la cocaina Oh abili di uno Buttalo dentro Grazie Angelo grazie Anzi gioco abili di uno Questo è per lo special post della missilise max Attenzione krillin portacrilli Guarda potrebbe essere anche 3 ssr No però ho fatto doppio crack Non l'ho manco vista Ma io l'ho detto che Dock al meglio di krank ross Ma io lo dirò sempre Per sempre Per sempre Nei secoli Ecco qua Stavo sbagliando Era doppio Doppio in culata No il gioco mi vuole bene Lo so Ne vuole benissimo Ma si sempre un anno Sempre un Beh Era con qua Ah Facciolo cazzo Facciamoci questa free Ormai nel completo chill Tanto quello che mi davi dai Tutto in più Però una bella animazione nuova Con Tizio c'è un po' di gente Cocaina Qualcaccio vorremmo la cocaina Uno Cinquato con più bit Non credo che valga la pena E' la free Trovo perché la free Qui mi rende da ben due Ma probabilmente Se carico sta roba su youtube Verrò blastato da chiunque Mi saluto Oddio mio Che schifo Oh 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 Abiliti Grandi abiliti Mi fa vedere un'animazione nuova Piccolo e più forte di piccolo Piccolo e più forte di piccolo E' fin qui Ehm Credo di piccolo più forte di combista Si E' che so Ma questa è una San Mosca Vediamo che Gohan Non vuole Le stone Vuole i soldi Capito perché Con i ticket C'ho proprio Peccato che già l'ho preso Tutto Quindi non ci faccio Ah qua guarda Se mi vuole dare un Gohan Beast Lo posso pure accettare Però Mi mantengo molto basso Due Gohan Beast Secondo me Sto giro sarà di merda Ma guarda Dove è ritornato Già un altro piccolo Io alzo le mani E sto già contento così Anzi Potremmo conservare Però no Se dobbiamo mimare Mimiamo per bene E poi Ve lo vedo in animazione Nuova Gohan è stata Veramente l'inculata Del secolo Però Ehi A noi piace essere inculati Ti prego Fammi l'animazione Quella Oh Goku Attenzione La saga dei pelati No Goku non è pelato No Ha fatto Kamiame Sorda No Che devo chiedere Per vedere l'animazione Quella dopo piccola Che poi Non ho manco vista E quella Cioè Non so manco Come fa Serve come Esatto Bra Hai pienamente ragione Non posso darti torto Io ho detto Gohan vuole solo i soldi Per essere pullato Gohan i piedini I piedini Oramai Sto nelle tue mani Attenzione Goku Vegeta Che cazzo Di Goku Vegeta Anzi con Beast Io facevo l'in S.S.S.R. È fin qui Il Cazzo Banner Gogett Animation Gogett Animation Easy Ma che schifo Ma che gogett È una merda No Crack di screen Ma io volevo Quel Super Saiyan 4 Di merda Uffa Super Saiyan 4 Super Saiyan 5 L'animazione Dove piccolo Oli War Ok a posto Che brutto Il crack E basta Secondo me c'è una scammata Perché io volevo Vedere quell'animazione Nuova Guarda non mi da go Voglio un'animazione Nuova E poi mi dai go Tutto Tutto scriptato Che brutto Ma che brutto Mamma mia del signore nostro Peccato che io già l'abbia fatto full Vabbè Signori Ultime Zero stun da spendere Mamma mia Questo Comunque io piccolo Mi ripeto Già sono contento Vorrei vedere solo l'animazione Nuova Ma perché questa Questa abominio Paragonato al grande No Piccolo Goten Te prego Fammi quel cazzo Di coso Che schifo Che schifo Che schifo Piccolo Non è tanto piccolo Se facessi la condivisione Su discord Di due Molte Andrebbe bene E vuoi farlo Doccano una trappa Ragazzi Doccan Mio fratello Puro schifosi Quando Scambist Che poi Scambist Potrebbe essere Tipo un luogo Per Scambisti Scambist E se ci sono piccolo E non si deve trasformare Nella nuova animation Scusa Per fare gamma 1 Gamma 2 Piccolo E poi Cosa Io non dico Gohan e piccolo Come animazione Già l'ho vista Io dico quella dopo piccolo No quella dopo Il Super Saiyan 3 Che sarebbe Il god De Gohan Grazie Editarium Io quella Sto dicendo Non l'ho mai vista Il nostro Pelato Di fiducia Ciao 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 Ciao